Peccato solo che non sia venuto il gol sabato, ma direi che la prestazione c'è stata e che giocando così e mantenendo questa mentalità si può fare molto bene. In questo momento per noi l'importante è andare là con la mentalità giusta, cercando di fare la prestazione, perché sappiamo che se arriva quella sicuramente dei punti li portiamo a casa. È una partita dove vogliamo andare là per i tre punti, per vincere, come abbiamo fatto tutti i sabati, quindi sarà così anche questa volta. Poi vedremo il campo cosa dirà, ma se saremo concentrati e attenti penso che ci si possa togliere delle soddisfazioni. Sono a disposizione, non lo so, difesa, centro campo, è uguale, anche partire dalla panchina io non ho di questi problemi, quindi vedremo quali saranno le scelte del mister, le rispetteremo e se saremo chiamati in causa risponderemo presente, penso come abbiamo sempre fatto tutti quanti. Darmi un voto non lo so dire, perché mi sentirei molto presuntuoso a darmelo alto, ma allo stesso tempo non penso di meritare un voto basso. Però forse più che la migliore stagione è quella dove sono maturato di più, nel senso che so quelle che sono le mie possibilità, so quali sono i miei limiti e ho capito bene quello che posso dare, insomma, quello magari quando entro in campo, quando gioco, la squadra è quello di cui può aver bisogno e quindi, insomma, penso di essere maturato. Ecco, i miei compagni, l'allenatore, la società in questo mi ha dato una grossa mano, perché ogni anno sono stati degli ostacoli, sono state delle situazioni che mi hanno aiutato a migliorare tanto, quindi spero di non essere arrivato al top, che sia sempre la possibilità di migliorare, però, insomma, sono contento. Penso che anche i miei compagni nei giorni scorsi l'abbiano detto, non guardiamo tanto ai punti in questo momento, ma a fare bene e poi vediamo partita dopo partita. Noi sicuramente giochiamo per i tre punti e a fine anno tiriamo le somme, anche perché stiamo facendo qualcosa, penso di bello e quindi pensare ad essere i punti, mettersi dei problemi, mettersi delle ansie, e così non avrebbe molto senso, perché proprio non abbiamo nulla di cui, insomma, ricriminare. Quindi vediamo, partita dopo partita, poi tiriamo le somme alla fine. Non pesava all'inizio, quando magari siamo stati nelle prime posizioni, non pesa adesso, perché secondo me in questo momento, ok, siamo quarti, però veramente le prestazioni ci sono state tutte, abbiamo dimostrato di essere una squadra solida, di essere tosti, gli avversari cambiano modulo, cambiano modo di giocare quando giocano contro di noi, insomma, ci temono. Quindi non vedo questa ansia, insomma, questa pesantezza della palla, anzi, penso che veramente tutti non vedano l'ora di scendere in campo il sabato, proprio perché quest'anno è bello, quest'anno gira tutto, ci viene tutto bene, c'è felicità di scendere in campo, quindi insomma, non penso proprio, anzi, penso che al contrario ci sia proprio la voglia di dimostrare, insomma, di recuperare queste due o tre posizioni. Arrivavamo da una stagione un po' particolare, quindi che la squadra di quest'anno sia stata formata sulle basi, insomma, del vecchio gruppo e che ci vengano appunto date queste lodi qua, fa molto piacere e sicuramente non bisogna sedersi, nel senso perché poi è un attimo ricevere i complimenti e pensare che sia tutto finito, il bello penso che arrivi adesso, il bello, il difficile, insomma, come uno lo vuole vedere arriva adesso, quindi noi siamo qui, noi sappiamo cos'è Sassuolo, siamo qui io personalmente da otto anni, quindi insomma, so quello che c'è da fare, so che questa società bisogna dare tanto, perché ci sta dando tanto, ci mette nelle condizioni di lavorare il meglio possibile, quindi insomma, cerchiamo di far capire tutti i giorni ai ragazzi nuovi, ma l'hanno già capito e si vede anche il sabato quando scendiamo in campo quello che voglio giocare a Sassuolo. È bello far parte di questo progetto, è bello aver fatto parte di questa cavalcata e speriamo appunto che non sia finita qui, però sono orgoglioso, sono contento, ho conosciuto persone splendide e appunto io sono qua da otto anni, ma c'era della gente qui che è da otto anni insieme a me che mi ha fatto crescere tanto, vedi Piccioni, Pomini, Masucci, quindi Magnanelli, insomma, quindi adesso non voglio dimenticare nessuno, ma insomma, tutti dati una mano, quindi è merito veramente di tutti.